e ho dimenticato di dire prima mi scuso che per le domande sarebbe molto indicato prenotarsi indicando il proprio nominativo nella chat come ha fatto giulio ceste che avrebbe una domanda poi è intervenuto william mi sembrava però di più un commento più che una prenotazione e poi si è prenotato corrado conti prima di passare la parola giulio ceste ricordando sempre appunto di cercare di essere sintetici nelle domande prima vi citavo l'audizione di confindustria e alla commissione industria del senato ieri è stata udita anche a 2a multi utility che conoscete bene di cui i principali azionisti sono il comune di milano e il comune di brescia è interessante notare sempre nel solco della concorrenza diciamo della retorica che caratterizza la cantilena della concorrenza notare come a 2a alla conclusione del suo contributo scritto abbia chiesto alla commissione del senato cito la proroga delle concessioni dell'idroelettrico che è una partita anche quella molto importante molto rilevante sostenendo che con l'aspettativa di una proroga delle concessioni di almeno 10 15 anni i gestori potrebbero attuare investimenti per circa 8 10 miliardi di euro oltre l'adeguamento dei canoni di concessione a favore delle regioni e dei territori montani credo che anche da queste poche righe si capisca l'approccio e anche qui il come dire l'altalena che governa il meccanismo della concorrenza o presunta tale detto questo passo la parola a giulio ceste che il primo che si è prenotato per una domanda al a lui grazie e non so bene a chi indicare questa domanda per cui la pongo qui piuttosto anche potete magari chi vuole rispondere o se volete integrare le risposte e volevo chiedervi se perché non sono molto ferrato su come funzioni anche al momento a torino con smart come funziona come organizzata e in qualche modo da un lavoro se a livello cittadino dall'amministrazione o da smart stessa sia arrivato qualche non so se presa di posizione o comunicato o qualche cenno almeno rispetto a questa vicenda e nello specifico cosa cambierebbe nel caso in cui poi entrasse in vigore e quali risvolti potrebbe avere anche anche perché non so non ho anche tanto percezione di quanto sia in questo momento efficiente secondo i parametri di cui si diceva prima in questo ribaltamento anche di di orizzonti appunto cosa succederebbe o quali scenari anche conoscendo un po la situazione specifica che io ok un po questa è la domanda chiarissimo chiarissimo grazie e magari proviamo raccoglierne non so se processa al gostino e l'onora artesio vogliono già rispondere altrimenti possiamo anche raccogliere l'intervento di corrado naturalmente la domanda può essere anche stesa al comitato cioè se dal comitato a proposito di smart si vuole dire qualcosa fatemi un cenno maria angela sì se volete ora o dopo facciamo così raccogliamo anche la domanda un intervento di corrado poi maria angela rosolenne per il comitato risponde a giulio sulla diciamo sulla situazione di torino la risposta degli enti locali delle amministrazioni pubbliche e gli eventuali scenari anche rispetto a smart corrado ciao sono corrado conti scusate se non ho il video ma non ce l'ho proprio quindi sono conterraneo di duccio che quindi mi può fare da garante ecco io devo dire che ho trovato molto interessanti gli interventi da professore agostino e di signor artesio soprattutto per quanto riguarda il fatto che secondo me la battaglia per lo stralcio dell'articolo 6 deve essere non tanto un punto di deve essere concepito come se non è tanto un punto di partenza ma l'articolo 6 è l'arrivo di tutta una serie di ovviamente normative ma anche soprattutto prassi amministrative tese che hanno come obiettivo quella della privatizzazione dei servizi e dei beni direi che trovo molto interessante e velocemente le considerazioni dell'artesio sul discorso che una battaglia per lo straccio dell'articolo 6 senza cambiare la finanza locale non ha senso lo dico per la mia esperienza lavorativa da più di 40 anni negli enti locali per la contabilità io penso che oramai da tantissimo anno ci sono striscianti tentativi di privatizzazione che partono anche dalla privatizzazione degli strumenti e dalle procedure di programmazione di gestione di rendicondazione economica degli enti locali sempre sulla base della concezione di fondo di cui hanno parlato i relatori che dalla logica che il privato è bello il pubblico è comunque inefficiente se si pensa alle riforme delle finanze locali molto spesso prese come se fossero sempre delle grandi e grandi progressi in realtà ci si rende conto che sono tutti i tentativi di introdurre nella negli enti locali la contabilità privatistica che in maniera molto parole povere porta chiaramente a avere come obiettivo il profitto e non tanto quello dell'utile pubblico tutte le riforme delle finanze locali vanno in questo senso da ultimo si fa per dire anche l'ultima riforma con cui addirittura si sono moltiplicati gli strumenti che poi hanno portato a privatizzare sia i beni che i servizi comunali riducendo quelle che erano le risorse correnti e portando a utilizzare le risorse straordinarie per finanziare spese correnti qui ci sono molti amministratori lo sanno è inutile ricordare il periodo degli oneri di urbanizzazione usati per riequilibrare le parti correnti del bilancio che hanno portato anche sono tra le cause principali della distruzione del territorio dal punto di vista edilizio ma qui bisogna anche ricordare che ci sono ancora adesso delle norme che consentono di usare le alienazioni per coprire comunque di equilibri di parte corrente e quindi sono al di là di quello che possono pensare molto appetibili da parte degli amministratori per non arrivare al discorso ad esempio di derivati ma andremo troppo in là e non la voglio fare lunga per questo io da una parte penso e domandavo anche i relatori se non la pensavano così che comunque una battaglia per fermare le privatizzazioni a partire dal discorso del stracciare l'articolo 6 deve comunque partire da una profonda riforma della finanza locale perché se non ci fosse questa riforma della finanza locale ben difficilmente noi poi stracciando un articolo riusciremo ad impedire effettivamente le privatizzazioni sotto questo punto di vista devo dire anche perché ne faccio parte trovo molto positiva la proposta di iniziativa popolare portata avanti data sulla riforma della finanza locale che secondo me dovrebbe essere una di quelle azioni di resilienza di resistenza di cui la relatrice artesi parlava grazie grazie a corrado conti e ora passo la parola maria angela per per la parte su su una risposta giulia quale mi pare che abbia chiesto quale conseguenze avrebbe l'articolo 6 su smata torino sulla situazione del nostro servizio idrico voglio solo premettere che fino ad ora e per tanti anni a questa parte abbiamo difeso con le unghie coi denti il ruolo di smart la sua autonomia e il ruolo del comune dei comuni nel governo dell'azienda cercando di mantenerla sempre di più come ente purtroppo non ci siamo riusciti di diritto pubblico ma vicino al modello dell'azienda speciale di diritto pubblico per esempio con l'ottanta per cento degli utili rivestito reinvestito in azienda e non eh ripartito tra i soci che peraltro sono tutti i comuni dell'area torinese il pericolo comunque c'è anche se per fortuna grazie da un lato alle consigliere di due consigliere superstiti del 5 stelle e poi alle due consigliere di sinistra ecologista è stato presentato in consiglio comunale l'ordine del giorno di cui si parlava prima che è stato approvato a larga larga maggioranza e che ribadisce appunto il l'ostilità del comune di torino all'applicazione dell'articolo 6 del disegno di legge di concorrenza purtroppo però l'azienda in questi anni non è stata seguita dai consiglieri comunali dal comune come avrebbe dovuto essere è stata lasciata andare eh apparentemente bene perché fa degli utili strepitosi decine di milioni di utili l'anno ma con una gestione molto personale del suo fondatore praticamente e con un impoverimento progressivo e pressoché totale di competenze tecniche basandosi di più sulle operazioni finanziarie che non sul mandato e sul ruolo produttivo dell'azienda produttivo del servizio idrico ormai l'azienda smad di torino sul mercato mette tutto pensate che fa delle grandi opere come l'ultima il collettore mediano per 120 milioni di euro e forse anche di più affidando in appalto la progettazione dell'opera non esecutiva dal preliminare cioè tutto quanto le viti i tubi come sono fatti di che qualità di che dimensioni li progetta l'imprenditore il privato e il privato decide praticamente la qualità dell'opera capite che se non avete gli ingegneri in azienda che decidono loro qual è la qualità dell'opera non riesci più a controllare niente e infatti tutto in mano alle imprese private che a torino sono per queste opere sono tre o quattro in tutto le conosciamo e si spartiscono il mercato le vicende del collettore quindi il pericolo per smart c'è anche se il consiglio comunale solo di recente ha detto che non è quella la strada dell'articolo 6 che vuole perseguire e però ci sono 300 comuni piccoli e medio piccoli che sono anch'essi soci di smart e che non si capisce bene anzi purtroppo ehm si intuisce abbastanza che non sarebbero contrari a disfarsi di una responsabilità quindi eh l'operazione di cui o culturale e sociale di cui si parlava prima è essenziale perché i nostri amministratori locali non sembra che non possegano più quei valori dalla costituzione in giù che dovrebbero animare e determinare le loro decisioni e smart quindi è in pericolo anche se il consiglio comunale di torino che è il maggiore azionista di smart per ora dice che eh insomma lo lo respinge e lo rifiuta. Grazie. Grazie. Grazie mille Mariangela Rosolen del comitato e Gianni Ruggeri. Prego. Ma eh scusate per come dire la la pochezza del dell'argomento che sto per per proporre ma vorrei eh come dire rappresentare o ricordare ehm una un convincimento che va alla grande nel senso comune. Quello appunto dell'inefficienza del servizio pubblico. Eh naturalmente io non ho dati non ecco la 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 domanda semplicemente come si può si può contrastare eh questa opinione non so quanto eh quanto eh quanto documentata eh come la si può ribaltare eh se questo rientra per esempio nel eh programma di lungo termine a cui ha accennato la signora Artesio eh insomma cosa 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 può comportare in che modo si può risolvere questa 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 faccenda qui si può ribaltare ripeto questa opinione che è assolutamente negativa eh eh però continua a ristagnare nella stragrande maggioranza dell'opinione pubblica. Grazie. Grazie. Gianni Ruggeri. William alzato la mano. Prego. Rispetto agli interventi di prima. Ripeto. Io non sono addentro alle vostre problematiche perché le sto vivendo da un altro fronte però mi viene eh da pormi due domande. Non vedo sindaci attenti a questa problematica. Anzi vedo solo sindaci nella mia esperienza che cercano di sbolognare quanto più possono le problematiche. Quindi non vedo assolutamente nessuna possibilità per sindaci che governano territori piccoli di essere propositivi su questi argomenti. In Italia dal mio punto di vista manca un aggregazione, un obbligo di aggregazione ai comuni che li dovrebbe portare a mio avviso a una massa critica di 50.000 persone per avere gli effetti che voi state proponendo. Io vivo nella mia esperienza di residenza questa difficoltà, questo distacco tra quanto voi dite e la realtà dei fatti. Se non siamo tutti città metropolitane e quindi i problemi si affrontano in maniera diversa. Qui il referendum è stato sì vinto ma poi dopo non è stato applicato per prima per prima colpa diciamo dei sindaci. Non ne vogliono sapere mezzo di avere problematiche di acquedotto o meno. Più è piccolo il comune più questa questione risulta. Quindi c'è un distacco tra quanto sento questa sera e la realtà diciamo dello stivale lungo. E questo mi preoccupa nel senso che io non vedo nessuna soluzione al fatto che si passi ai privati perché comunque ci sono comuni che sono talmente piccoli che non hanno nessun tipo di capacità né politica né gestionale né assolutamente nulla e quindi si adeguano. E' chiaro che dal mio punto di vista se non passa una riforma generale di questi comuni quindi una fusione dei comuni obbligatoria difficilmente si riesce a tarpare le ali a questa finta concorrenza per quanto riguarda i settori acqua, energia eccetera eccetera. E' chiaro che le multinazionali, cioè le multi utility sono un progetto, sono una realtà che ripeto per molti comuni ha risolto dei problemi. Qui c'è un distacco tra il cittadino e la presenza del cittadino e il servizio. Io non so fino a in piccoli comuni come quelli dove io risiedo, quello che stiamo cercando di fare in Piemonte, ci sia questo sentore che vedo questa sera, che ho comunque sentito già diverse volte, per cui questa cosa veramente mi preoccupa, nel senso che diventa un discorso riservato alle città metropolitane e ai comuni grossi. Difficilmente un comune piccolo riesce ad essere su una linea di interpretazione dei servizi come ho sentito dire questa sera. Grazie a tutti. Grazie. Non so se Orietta Messolati, che ha attivato il microfono, vuole intervenire. Sì, mi ha persa. Buonasera a tutti. Mi ha persa la possibilità di parlare, non pensavo di intervenire, ne approfitto dopo l'ultimo intervento. Nel senso, io sono consigliera in un piccolo comune da nove anni e sono di nuovo contrassegnata oggi con il simbolo politico ancora del Movimento 5 Stelle. La mia esperienza era stata che si era lavorato anni fa con con il comitato dell'acqua pubblica, portando anche una serata in paese sotto forma di discussione, diciamo che la nostra parte politica era il comitato acqua pubblica e ai tempi si era invitato la volta che era consigliere comunale a Torino e c'era stata una discussione appunto da noi organizzata in maniera assolutamente trasversale, visto che anche la volta era stato portato comunque su richiesta appunto di noi consiglieri comunali. E effettivamente le risoluzioni nei piccoli comuni non si trovano, perché a oggi io siedo ancora lì, è cambiata la giunta, quindi era stato portato a un'altra giunta. E il discorso è che alla fine quando passa il bilancio per un comune piccolo, per il sindaco comunque lo esprime come una risorsa quel 0,06% che noi possediamo. Quindi una volta all'anno regolamente durante il bilancio viene sottolineato da un'opposizione che poi si ritrova neanche a votare un bilancio contro, perché molte delle voci poi coincidono con quello che si deve fare. Però a sottolineare quanto tutto sommato questo introito di risorsa molto piccolo forse è il momento di lasciarlo andare. Nel senso, la risoluzione anche portata a livello di consiglio comunale era stata poi votata anni fa dai due consiglieri del Movimento 5 Stelle e da un consiglio comunale che comunque ne resta assente, perché tanto, avendo solo uno 0,06%, un sindaco, un assessore mi continua a dire che lui non riesce a incidere in nessuna maniera. Quindi di nuovo, quello che è la sorte del Movimento 5 Stelle in questo momento è davanti agli occhi di tutti, quindi probabilmente nei tempi in cui c'era il potere per poter incidere anche lì in pochi si sono riusciti a coordinare nella giusta maniera con il grosso, grossissimo lavoro di acqua pubblica. Io per la mia esperienza vi dico, mi avvicinai al mondo della politica perché mi diedi disponibile con il referendum del 2011 che abbiamo stravinto. Ultimamente ho certificato per quello riguardante il testamento biologico e sono lì che ascolto della gente che decide, scusate lo sfogo, di non fare delle leggi. Quindi la mia realtà in questo momento mi dice che ancora la forza andiamo avanti, anche nei consigli comunali, anche come opposizione, però effettivamente è proprio palese che non riusciamo a, se non come dico, magari a organizzare col clima giusto delle serate di discussione con le parti politiche che siedono lì e con i cittadini, se riusciamo però a farli partecipare, perché sono temi che non sentono alla televisione, secondo me li hanno troppo distanti e se li troveranno sulle spalle, cioè ce li troveremo sulle spalle pesantemente quando poi comunque la privatizzazione, scusate la mia negatività, arriverà come abbiamo visto arrivare in tanti altri ambiti lavorativi. Quindi non pongo domande, nel senso sono qua anche stasera, ho provato a collegarmi, mi ha fatto piacere anche il mio comune, devo dire la verità, mi ha girato l'invito che è stato mandato al comune, a me è arrivato in maniera diretta, era un po' di tempo che non seguivo questi temi, un pochino più da vicino proprio perché il logoramento dei nove anni è tutto sulla mia persona in questo momento. Quindi vi ringrazio, ho approfittato per un piccolo sfogo nella discussione interessantissima davvero che cercherò di mettere impegno nel continuare a seguire con piacere anche in quello che possono essere appunto delle manifestazioni da portare avanti, come dico che però difficilmente vanno a incidere, almeno da noi l'esperienza è stata quella e sono passati anni e come dico ai tempi il nostro gruppo politico aveva dei numeri anche molto forti, oggi dovrà provarci qualcun altro per incidere un po' di più immagino. Ringrazio tutti. Grazie. Grazie per il suo contributo a Orietta Pizzolati. Dobbiamo una risposta a Gianni Ruggeri, chiedo anche a, ripeto, a Eleonora Artesio, magari per la sua esperienza amministrativa precedente e naturalmente anche alla professoressa Agostino se vogliono rispondere, altrimenti Mariangela per il comitato, cioè su che strumenti dare per controbattere alla retorica del privato più efficiente, il pubblico con la Brodo. Posso intervenire? Sì. Intanto in ambito domestico abbiamo due connessioni contemporanee, mi scuso se ci sono o ci saranno delle interferenze. Io intervengo su un aspetto, ovviamente alcuni degli interventi non sono affatto all'insegna della depressione, ma sono all'insegna del pessimismo della ragione, nel senso che collocano la fatica del contrasto a questa particolare situazione con gli elementi di constatazione di fatto delle difficoltà di carattere istituzionale e delle difficoltà di carattere sociale. Mi sentirei di dire queste due cose. La prima, il tema della riforma della finanza locale è un tema fondamentale, non solo perché consentirebbe una diversa agibilità nella definizione delle priorità e nella responsabilità delle scelte, ma anche perché introdurrebbe dei meccanismi che volti a svelare quali sono stati non solo i condizionamenti oggettivi di parte giuridica sulla riduzione dell'autonomia economica dei comuni, ma anche quali sono stati i rischi e le conseguenze derivanti da un accesso a un credito che ha fortemente compromesso la possibilità dei comuni negli anni a venire e che li ha sottoposti a risarcimento in termini di tassi di interesse sui mutui contratti al di fuori di qualunque equilibrio di ritorno economico. Questa questione della finanza locale è una questione intimamente connessa al tema del rapporto con il sistema finanziario e quindi è una questione fondamentale per l'aspetto culturale e per l'aspetto sostanziale. In questo quadro, che è il quadro di grande respiro, c'è un tema che veniva ricordato di come risalire una china che abbiamo lungamente disceso rispetto alla legittimazione agli occhi dell'opinione pubblica dell'importanza del pubblico, del valore e della qualità del pubblico. Per un'operazione come questa, che ripeto, per prima ritengo essere di tale lungalena che mi auguro di aver modo di vederne almeno l'inizio, di vederne almeno i germogli, io credo che si debba cominciare a lavorare sulle alleanze, non perché socialmente non si siano cercate le alleanze, la grande operazione del referendum dell'acqua pubblica è il segno di una grande alleanza che si è costruita con il senso comune, ma il tema è strutturarle queste alleanze, come costruire dei fronti comuni che parlino un linguaggio omogeneo e che con questo loro linguaggio omogeneo possano gridare allo scandalo rispetto a quanto sta succedendo, cioè alla legittimazione della privatizzazione dei servizi pubblici locali. A quali alleanze penso? Penso alle alleanze di carattere professionale, non nascondo di essere stata e di essere particolarmente critica quando vedo il ruolo delle rappresentanze e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dei servizi pubblici locali, concentrarsi prevalentemente sugli aspetti di regolamentazione dell'applicazione della contrattazione decentrata, piuttosto che sugli aspetti riguardanti l'orgoglio del loro mandato. Allora questo è il momento, io credo, ma credo anche che ci sia il desiderio di un momento come questo, tra questi professionisti così lungamente mortificati, questo è il momento nel quale si debba riprendere professionalmente la parola, anche comunicando quali sono le modalità condizionate del proprio lavoro che rendono così distante l'obiettivo primario dell'esercizio della funzione professionale che è la soddisfazione dei bisogni primari delle persone rispetto al modo con il quale sono obbligati e condizionati nel lavoro. Quindi un primo tema credo sia il rapporto con le organizzazioni professionali di questi comparti. È facile, io non arrivo da un'esperienza particolarmente concentrata sui temi di, ad esempio, del trasporto pubblico locale, ma lo voglio citare perché mi sembra quello più immediatamente percepibile, anche come questione relativa alle possibilità di alleanze con quel tipo di lavoratori. Nelle mie particolari questioni di attenzione rispetto all'attività amministrativa, che sono quelle sociali e sanitarie, questo tema è fortemente enfatizzato perché è il tema della relazione con le persone che emerge prepotentemente ed è la relazione con le persone che fa emergere con prepotenza la distanza tra un obbligo di agire e di svolgere servizio sottoposto a quei temi di bilancio di cui parlavamo prima e invece il bisogno in carne ossa, espresso, urlato, rappresentato dalle persone che si rivolgono ai servizi. Quindi un tema da dove cominciare, si diceva, per risalire la china della delegittimazione, un tema penso sia quello delle alleanze con le professionalità che operano all'interno di quei servizi e ho ben presente come ad esempio si sia lavorato a Torino in un appuntamento pubblico proprio su SMAT per conquistare a questa attenzione, a questa sensibilità la struttura interna del personale di SMAT. La seconda questione è quella delle alleanze diffuse e come può funzionare la relazione con le alleanze sociali più diffuse? Certo veniva detto, i cittadini in questo silenzio tombale o in questa acquiescenza per cui c'è un'omogeneizzazione culturale rispetto al tema della privatizzazione, si accorgeranno soltanto quando lo misureranno nelle conseguenze di quanto è accaduto, di quanto stia accadendo e però c'è tutto il tema della costruzione dei momenti di controllo interno, cioè provare a costruire all'interno dell'organizzazione dei servizi e questo è possibile anche con attività di modifiche statutarie realizzate dalle istituzioni locali, provare a costruire degli strumenti partecipati di controllo che possano agire nella direzione non solo di misurare con dati accessibili e quindi con un principio di trasparenza amministrativa gli effetti del funzionamento degli stessi servizi, ma anche di costruire una cultura via via progressivamente più solida e quindi anche potenzialmente più diffusa rispetto alla conoscenza interna del funzionamento dei servizi stessi. Io non vedo altri strumenti se non appunto quelli di una faticosa costruzione di reti di alleanze per un versante con coloro che agiscono e condividono a volte il loro mangrado una responsabilità rispetto alla qualità del funzionamento e dall'altro lato con queste forme di comitati di partecipazione all'interno degli stessi servizi pubblici locali. Questione che veniva anche ricordata essere esplicitamente prevista anche dalle norme. Ho finito. Grazie. Ora passo la parola alla professoressa Aligostino per una seconda. D'accordo no, solo due battute in realtà, vista anche l'ora. Mi pare che ci fossero due le questioni, quella della smart ha già risposto molto bene anche Mariangela, ma la questione dell'inefficienza del pubblico, su cui mi sento semplicemente di fare proprio due considerazioni. Cioè a me pare che ogni volta si voglia aprire un nuovo spazio di colonizzazione per il mercato, si proceda prima ad una campagna di legittimazione di quel settore. Io l'ho visto cadere un po' anche per la scuola, forse per l'università e anche per l'università. Prima si cerca di denigrare il pubblico e si apre lo spazio per l'avvento del mercato. E quanto al concetto di efficienza e in efficienza, a me pare che il concetto di efficienza sia un po' come il concetto di governabilità che ricordava prima Leonora Artesio. Cioè quei concetti che sembrano neutri ma non lo sono. Quando noi parliamo di governabilità dobbiamo sempre chiederci governabilità per chi, governabilità per che cosa, in nome di che cosa, con quale fine, con quale obiettivo e il termine efficienza è un termine molto correlato anche qui all'ottica poi economica, all'ottica che tende alla massimizzazione del profitto, non a quella dei diritti. Quanto alla finanza locale, veniva citato prima la proposta anche di Attac, che se non sbaglio ragiona di un bilancio che deve essere un pareggio di bilancio sociale, ecologico di genere. A me pare che bisogna però proprio in radice abbandonare un po' questa prospettiva diciamo del pareggio di bilancio. Questa è un'altra delle imposizioni che discendono da quella famosa lettera della BCE che citavamo prima, la lettera del 5 agosto 2011, che tra le varie misure puntuali che prevedeva il governo dovesse adottare, anzi il primo ministro diceva la lettera addirittura, portandosi avanti su future riforme istituzionali, neanche il Presidente del Consiglio, diceva appunto l'introduzione con le leggi costituzionali del principio di pareggio di bilancio. Mai le leggi costituzionali è stata adottata in tempi così rapidi come quella senza il principio di pareggio di bilancio e forse da qui bisognerebbe ripartire e allargare anche il discorso in realtà sul senso di questo inserimento in Costituzione che rappresenta una nota di stonata all'interno del testo costituzionale e che ricordiamoci non deve portare ad un bilanciamento con i diritti. In questo caso il bilanciamento non è un bilanciamento uguale ma un bilanciamento diseguale perché da un lato noi abbiamo una nota stonata che è il principio di pareggio di bilancio e dall'altro abbiamo l'armonia di un testo costituzionale che pone al centro l'ottica della persona, dei diritti, al quale è strumentale la seconda parte della Costituzione che ha un articolo 41, lo ricordavo prima, che prevede dei limiti, una programmazione dei controlli e dei controlli economici. Per cui secondo me bisogna riprendere e inserire questo discorso anche del disegno di legge e concorrenza in una progressiva deriva di questi discorsi, di questa assunzione di maggiore centralità del principio di pareggio di bilancio, così come bisogna mettere in discussione la questione della limitazione delle risorse, perché non di limitazione si tratta molto spesso, ma di scelte politiche sulla destinazione e sull'allocazione delle risorse. Così come in questa legge si insiste, questo secondo me è un elemento importante, sulla partecipazione. La partecipazione è l'essenza della democrazia, anche qui secondo me facendo attenzione perché è facile che poi queste parole vengano diciamo cooptate e sussunte in un alto orizzonte. Questo è accaduto in passato già per altri concetti come sviluppo sostenibile. Secondo me sta in parte avvenendo anche per le questioni relative al genere, all'uguaglianza di genere, che nel PNRR sono assunte ma sono in realtà stravolte nella loro prospettiva ed è facile che avvenga ed è già avvenuto anche per la partecipazione. Quindi quando chiediamo partecipazione che sia una partecipazione vera, effettiva, non una partecipazione fittizia perché qui c'è il rischio che da un lato ti demandi al cosiddetto privato sociale, quello che nel PNRR è definito il capitale sociale, cioè il volontariato, anche qui in questo modo diciamo dismettendo risorse pubbliche e dall'altro lato il rischio è che si creano degli organismi magari semplicemente consultivi che funzionino un po' come poi da anestetizzazione preventiva del dissenso. Per cui una partecipazione sì, ma che sia una partecipazione effettiva va senza dubbio recuperata. Secondo me sia per contrastare la campagna di legittimazione del pubblico, sia per riportare altre prospettive diverse che occorre cercare di demistificare diciamo queste campagne, denunciare che cosa sta dietro queste campagne e quindi creare diciamo delle sinergie, delle alleanze tra i movimenti che si oppongono diciamo a questa che è in realtà una visione del mondo, perché sono tutti piccoli castelli, questi di un'identica visione del mondo. Mi fermerei qua. Grazie, grazie professoressa Algostino. Io ora direi che sono le 22.50, l'ora è giusta e io vi ringrazio, ringrazio nuovamente Alessandra Algostino e Eleonora Artesio per i preziosi contributi di questa sera di cui faremo tesoro, il forum italiano di movimenti per l'acqua e il comitato acqua pubblica di Torino e prima di salutarvi e anche come diceva giustamente Karen per rincuorare un po' una situazione che magari capisco il pessimismo della ragione, però ecco magari da un po' da rinfrancare, le iniziative prossime, una ne è già in calendario del 21 febbraio, non ho granché dettagli, però insomma è un'iniziativa anche nazionale, starà il link sul sito del forum italiano dei movimenti per l'acqua a questo riguardo, quindi siete tutte e tutti invitati a restare mobilitati e direi nulla, ci si aggiorna, teniamoci in contatto e grazie nuovamente a tutti, un saluto. Grazie a te e grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.